E con Emanuela Zanasi abbiamo sentito il direttore del pronto soccorso di Baggiovara, dottor Bandiera, che ci ha spiegato alcuni stratagemmi per evitare di finire in ospedale per calore. La morsa del caldo a fuso non molla, mettendo a dura prova anche il nostro benessere fisico. Lo sanno bene medici e infermieri dei pronto soccorso allerte in questi giorni di clima estremo per individuare i sintomi del cosiddetto colpo di calore, vertigini e rialzo termico fino alla sincope con perdita di coscienza, alcune delle manifestazioni più comuni e allora ancora una volta prevenire è meglio che curare. I giovani, intesi come quelli che fanno attività sportiva più facilmente, devono sapere che fare attività sportiva soprattutto intensa in condizioni climatiche di questo genere implica una necessaria preparazione atletica, una capacità di capire quando ci si sta avvicinando al limite e non esagerare perché andare oltre il proprio limite sarebbe pericoloso, cercare ovviamente di evitare le ore più calde e dotarsi di un adeguato strumento di idratazione banalmente. Per la classe intermedia o coloro che devono lavorare valgono gli stessi principi nella misura in cui però evidentemente per uno che lavora forse è più difficile scegliere l'orario nel quale esporsi al sole ma certamente cercare di contenere la durata dell'esposizione e dotarsi di acqua. Per gli anziani valgono gli stessi principi generali cioè idratarsi correttamente bevendo gradualmente anche fino a due litri di acqua al giorno, evitare di uscire nelle ore più calde tenendo d'occhio anche le terapie che normalmente si seguono. Spesso queste persone prendono dei farmaci per tenere la pressione bassa quando si accorgessero controllandola che si fosse abbassata per le condizioni meteorologiche dovrebbero cercare, consultando il loro medico di famiglia, il medico di medicina gerale eccetera, di ridurre o adeguare la terapia. La stessa cosa vale per i diuretici. Spesso ci capita di vedere anziani che assumono una quantità di diuretici importante che sicuramente ha le indicazioni cliniche ma che in questo momento dell'anno magari andrebbe modulata per evitare che possano andare incontro alle complicanze. Parliamo ora di caldo e di colpi di calore che con queste temperature molto elevate sono e possono essere anche molto frequenti. Ma come è possibile riconoscerli? Ogni estate che passa si fa sempre più bollente. Quella che stiamo vivendo è decisamente da bollino rosso in tutta Italia. Ma quando le temperature si spingono così in alto l'impatto sulla qualità della vita è notevole andando ad influenzare diversi aspetti della nostra quotidianità soprattutto in circostanze come queste bisogna fare molta attenzione alla salute. Tra le conseguenze più serie del caldo eccessivo c'è il colpo di calore ossia un aumento delle temperature corporee dovuto ad un incremento della produzione di caldo da parte dell'organismo che non riesce ad essere bilanciato dai meccanismi fisiologici di dispersione. I sintomi però del cosiddetto colpo di calore sono i più disparati. La sintomi è il sintomo più eclatante quindi la perda di coscienza con la conseguente caduta a terra ma sicuramente il malessere generale, i rialzi termici, i giramenti di testa sono tutte situazioni che possono caratterizzare questo tipo di problema. Il colpo di calore è un'emergenza medica che richiede tipicamente assistenza ospedaliera ed è bene dunque fare molta attenzione ad adottare accorgimenti utili per prevenirli. Sebbene i soggetti più a rischio siano bambini e anziani con questo caldo e colpi di calore possono colpire tutti. I consigli possono essere rivolti principalmente oltre che alla popolazione generale a tre categorie di persone. I giovani, intesi come quelli che fanno attività sportiva più facilmente devono sapere che fare attività sportiva soprattutto intensa in condizioni climatiche di questo genere implica una necessaria preparazione atletica una capacità di capire quando ci si sta avvicinando al limite e non esagerare perché andare oltre il proprio limite sarebbe pericoloso cercare ovviamente di evitare le ore più calde e dotarsi di un adeguato strumento di idratazione banalmente. Per la classe intermedia o coloro che devono lavorare valgono gli stessi principi nella misura in cui però evidentemente per uno che lavora forse è più difficile scegliere l'orario nel quale esporsi al sole ma certamente cercare di contenere la durata dell'esposizione dotarsi di acqua per potersi idratare progressivamente cercare di limitare il più possibile l'esposizione a un consiglio credo valido.